Allora ragazze, per prima cosa, quando vi sedete io vi consiglio di mettere sempre le gambe in maniera accavallata e vicina quindi possibilmente la gamba una sull'altra poggiare una mano sulla gamba, una delle due, qualsiasi, e l'altra vicino al viso se volete poi fare una foto per far vedere meglio l'outfit, vi consiglio di mettervi con le gambe allargate oppure di sedervi in maniera un po' più strana sulla poltrona o sulla sedia questo per scattare una foto un po' più divertente quando invece siete in piedi, le mani vi consiglio di metterle lungo la vita per sfinarla oppure nelle tasche, tutte e due nelle tasche, oppure una sola dipende un pochino dal tipo di jeans, ma sicuramente in vita faranno il loro effetto poi le gambe devono essere in maniera simmetrica e formare un triangolo quindi ricordatevi sempre il triangolo poi se potete appoggiatevi accanto a un muro perché la foto uscirà più longilinea quindi la figura e le gambe sempre, mi raccomando, non allargate ma il più possibile a formare un triangolo le mani sempre lungo la pancia e oppure una sulla pancia e una appoggiata al viso se possibilmente, mi raccomando, un piede davanti all'altro sempre, mai piedi vicini poi per quanto riguarda la posizione del viso, io vi consiglio o di guardare di lato quindi con lo sguardo di lato o in basso, ma il più possibile nei lati se potete invece sorridete verso l'obiettivo, quello anche è una buona posa poi potete anche fare una posa da terra, quindi mi raccomando, sempre in maniera molto delicata quindi con lo sguardo sempre rivolto verso un altro lato quindi con lo sguardo